È davvero un paradosso. Chi ha sonnecchiato per anni oggi chiede ai comuni di fare presto per l'attuazione del reddito di inserimento. Lo sostiene Michele Napoli, riferendosi alle affermazioni del presidente della regione Pittella, che nella conferenza stampa sull'avvio del programma di inclusione sociale ha dichiarato di voler dare la sveglia ai comuni lucani, in ordine alla stipula delle convenzioni dirette ad attuare il reddito minimo di inserimento. A parere di Napoli, l'attività amministrativa posta in essere dagli uffici regionali in questi tre anni meriterebbe forse ben più aspra reprimenda, considerato che le strutture amministrative regionali dovrebbero predisporre azioni idonee a rendere attuali e concretamente operanti gli obiettivi dell'ente. A suo parere, inoltre, sarebbe stata opportuna anche una positiva autocritica per la scarsa influenza che la Giunta regionale ha dimostrato di esercitare sul Ministero in ordine allo sblocco delle risorse con cui finanziare il reddito di inserimento. Dubbi e interrogativi che, a parere di Napoli, sarebbe stato giusto avanzare ma che nessuno ha ritenuto riporsi.